Virgilio Corciona è morto sulla strada di casa, su quella provinciale 240 tra Domicella e Lauro, che ogni giorno percorreva con la sua BMW Serie 3 per andare e venire da Palma Campania dove lavorava presso un'azienda di conserve alimentari. Il 33enne di Moschiano, intrappolato tra le lamiere della sua auto, è stato estratto vivo dai soccorritori per poi morire poco dopo, una volta giunto al pronto soccorso di Nola. La salma del giovane è stata trasferita nella morgue della città ospedaliera di Avellino, in attesa degli accertamenti medico-legali. Intanto scatta l'inchiesta. Come da prassi, le due autovetture coinvolte nel sinistro sono state poste sotto sequestro. Mentre procedono, da parte dei militari della compagnia di Baiano, i rilevi sul luogo della tragedia per accertare le dinamiche del sinistro ed eventuali responsabilità. I carabinieri dovranno chiarire per quale motivo la provinciale si sia macchiata del sangue di Virgilio, perché l'auto abbia perso il controllo impattando contro la Passat per poi terminare la sua terribile gincana contro un palo della pubblica illuminazione. Domande che, devastati dall'angoscia, si pongono i familiari e gli amici della vittima. Un ragazzo semplice e per bene, molto conosciuto non solo a Moschiano, ma nell'intero valo di Lauro.